Allora, un caro saluto a tutti e oggi farò questo video che parte, vedete che a volte i suggerimenti arrivano nel momento in cui appunto meno ce lo si aspetta e per questo io adoro che a volte anche sotto il mio video voi mi scriviate, mi facciate domande o ci si possa confrontare perché all'interno di questo video qua un utente giustamente mi dice a me ha mandato in crash tutto e ho dovuto riformattare tutto lui quando parla di crash si riferisce al fatto, immagino che ha fatto questo aggiornamento di cui ho parlato io che appunto è una sorta di video diviso a metà, nel senso che la prima metà di questo video parlavo di quello che avrebbe annunciato Windows 11 cioè il fatto che comunque in una combo di aggiornamenti AMD e Windows 11, perché anche AMD ha aggiornato, ha patchato tutto quanto più la patch di Windows 11 ha sistemato tutta una serie di falle problematiche e se quello era la risposta principale ce n'erano anche tutta una serie di altre cose di cui appunto Microsoft non aveva parlato e invece in questo aggiornamento vi avevo detto cosa loro avevano aggiunto e appunto una persona giustamente purtroppo a volte capita anche questo mi dice a me purtroppo ha mandato in crash tutto e ho dovuto riformattare allora qua parliamo di due cose nel senso che lui è riuscito a formatare e a ripristinare ora ci sono due possibilità sempre nel momento in cui appunto voi abbiate dei problemi cioè è giusto saltare gli aggiornamenti, è possibile saltare gli aggiornamenti ma soprattutto in caso di crash, poi non so esattamente cosa è successo a questa persona però c'è una possibilità per tornare indietro ed evitare che con un semplice click senza formatare poi ripeto lo dico, poi non so esattamente cosa sia successo a questa persona però magari potete evitare di dover formatare tutto il sistema allora la prima cosa molto importante è quella di creare un punto di ripristino ma ancora meglio di aver attivato la creazione dei punti di ripristino perché in alcune situazioni sono assolutamente automatici e andiamo a vedere questa cosa come si fa allora nel momento in cui io ne avevo parlato decadi fa su ancora Windows 10 quindi probabilmente in un sistema un po' lontano quindi andiamo a riparlarne allora se fate start e andate a premere punto di ripristino perché io inizio già a dire punto di ripristino perché non mi ricordo esattamente il comando ma se voi iniziate a dirlo vedete che c'è crea un punto di ripristino allora la prima cosa fondamentale che voi dovete avere ok? sempre è avere questa funzione su C C è il sistema può avere altre lettere ma tendenzialmente da che mondo è mondo è mondo il C è legato al disco fisso ripeto non è fondamentale è un'assegnazione semplice di una lettera il D al tempo era il lettore di VD adesso qua gli è stato assegnato il secondo disco fisso sì il secondo disco fisso per assurdo ma al tempo era così e l'A e il B l'A era il floppy e il B un altro floppy o cose situazioni del genere così storicamente funzionava in questo modo comunque la cosa fondamentale è che voi dove c'è scritto C vediate scritto sistema perché è lì dove il sistema operativo è installato a questo punto voi vedete che qua io ho protezione attiva vuol dire che lui ogni tot comunque a prescindere mi crea dei punti di ripristino generalmente il sistema ve li crea prima di aggiornare file di sistema lo fa in automatico e ve li tiene per un mesetto circa nel senso che tendenzialmente tutti i punti di ripristino automatici creati da Windows ve li tiene entro gli aggiornamenti di un mese se lui dovesse creare 5-6 aggiornamenti di sistema importanti per quel mesetto lui ve li tiene tutti dopodiché è ovvio che lui inizia a sovrascrivere perché è anche uno spazio di memoria che voi decidete di poter eventualmente ampliare o ridurre quindi prima cosa assicuratevi che sia protezione attiva e giusto per sapere anche come si fa magari voi dite ma come faccio fate configura e a questo punto voi potete fare due cose se è disattiva protezione di sistema fate attiva ripeto ragazzi questo qui non è una condizione sine qua non cioè è una condizione sine qua non cioè dovete averlo attivato i punti di ripristino non è minimamente spazio buttato via è la cosa più importante che voi dovete avere perché vi salva il culo 99% abbiate un problema 99% quasi sempre l'errore dal quale Windows non riesce nemmeno lui a saltarci fuori vi riporta questa cosa ma non è soltanto utile se Windows vi crea il problema attenzione spesso questo vi serve alcuno nel momento in cui un programma de merda vi fa saltare tutto quindi non ha colpa Windows ma un programma vi crea un errore gigante voi cosa fate? sfruttate un punto di ripristino precedente che magari era la patch di Windows prima di questo file qua ma in realtà voi è vero che saltate ad un aggiornamento di Windows che poi magari potete anche rifare perché andava benone ma nel frattempo quello che c'è stato in mezzo cioè l'installazione di questo programma del cazzo lui lo bypassa e vi risistema cosa fondamentale sui punti di ripristino lui è vero vi salva da installazioni errate ma ve lo dico prima non vi cancella file che ci sono sul PC quindi sia nel bene che nel male se voi avete un file sul sistema che vi ha che non lo volete avere avete un virus salvato sul desktop è un assurdo però non vi sistema questo perché i file non vengono toccati ma vi riporta una situazione di driver di file di sistema fisici cioè proprio file legate all'installazione di qualcosa di un punto precedente ripeto i file lui non li va a toccare in questa sezione in questa zona è fondamentale anche guardare perché potete anche decidere di utilizzare più spazio ok quindi potete aumentarlo e lui vedendo e sapendo che ha questo spazio a disposizione ci gioca dentro ora ha senso tenere soltanto 4 giga cioè il 2% dello spazio massimo che il sistema si può prendere decidete voi per quanto mi riguarda sì perché tanto a me se ho un problema torno a quel punto di ripristino precedente punto non mi interessa nulla di quello che cioè se non vi salvate le chiappe in quel punto di ripristino difficilmente ve le salvate due o tre punti precedenti poi è ovvio che lavorando nell'IT e trovandomi in situazioni simili un miliardo di volte mi è capitato una o due volte nella vita o anche un po' di più effettivamente ma una me la ricordo recentissima in cui sono stato salvato da punti di ripristino di un paio di mesi prima perché era in una situazione in cui l'errore c'è stato non ci si è accorti cioè non ci si è accorti l'errore c'è stato dal punto di vista di un software che ha fatto del casino ma non era stato talmente deleterio per cui la persona in questione non l'ha segnalato e siamo andati avanti parecchio la fortuna che abbiamo avuto è stata che avendo un bel po' di spazio si vede dato al punto di ripristino ci siamo salvati perché siamo ritornati a un punto molto indietro e grazie a quello abbiamo ripristinato tutto senza creare casino però questo vuol dire nel caso di di gestire questa questa porzione di spazio punto non c'è non c'è molto quindi nel momento in cui magari voi dite voglio creare un punto di ripristino voi lo create anche al momento cioè voi dite sto per installare un programma che mi può creare problemi per evitare qualsiasi cosa creamelo adesso perché adesso so che il sistema è super stabile voi fate crea qua e lui ve lo crea all'istante così poi quello che ci installate dopo eventualmente lui ve lo sistema come funziona il ripristino come funziona il ripristino perché voi avete detto adesso mi hai fatto tutto sto pippone adesso ho il problema me l'hai spiegato come faccio a saltarci fuori allora ci sono due possibilità due possibilità la prima una volta che voi riavviate il computer premete l'f8 ora il fatto che sia f8 non è detto che sia f8 su tutti i sistemi operativi perché ci sono schede madri sistemi di portatili di tutto quello che ne avete voglia voi che hanno configurazioni settate a f di qualsiasi tipo non è detto che sia f8 comunque tendenzialmente con l'f8 voi arrivate ad una porzione di sistema che è una schermata blu ma non blu con gli errori una schermata blu dove vi dice mo qua dentro ci sono arrivato dimmi che cosa vuoi vuoi che recuperi vuoi che risistemi i file in automatico vuoi che rifaccia bla 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 ok in questo caso da quell'elenco lì purtroppo non ve lo posso far vedere perché dovrei crearlo per forza su una macchina virtuale in modo tale da simulare il problema perché se no ve lo potrei registrare cosa che non farò nel senso che proprio fisicamente non ho possibilità di installare questa cosa per farvela vedere quindi voi arrivate lì e lui dice bene vedo che ci sono punti di ripristino a quel punto e qua ve lo posso far vedere perché lui quello che succederà una volta cliccato là vi fa vedere il punto di ripristino vedi che qua lui dice io ne ho creato uno al 2110 2110 vedete perché perché ho installato alcuni aggiornamenti di windows lui vi dice torna a quello me non ho problemi a farlo oppure dite scegli un punto di ripristino diverso quindi fate avanti e vedete che avendo io poco spazio lui poca roba poca roba lui me la tiene dovrei tenerne molto di più per poter far quello ma almeno uno lui ve lo crea sempre a questo punto qua lui dice vuoi quello consigliato ma ripeto non è che posso consigliargli tanto perché quello o ci salto fuori così o non ce l'ho per quello vi parlavo del discorso della come si dice dello spazio a disposizione ok quindi questa cosa qua voi la trovate direttamente nell'f8 ora voi dite ok vi ho detto che c'erano due possibilità una era con l'f8 ma se con l'f8 non lo trovate non funziona lui non non lo sa non sapete quale tasto come saltarci fuori c'è un'altra possibilità la seconda cioè avendo un'immagine di Windows qualsiasi su chiavetta quindi una una ISO buttabile cioè una ISO che nel momento in cui voi avviate il PC riuscite ad eseguirlo quindi fate BIOS esegui da USB e lui si avvia da quella cazzo di chiavetta lì che avete con l'immagine insomma lo faremo un altro video a parte che credo di aver fatto video in cui vi spiego come creare l'ISO anzi no l'ho fatto video in cui vi spiego come si fa l'ISO quindi andatevi a scartabellare un po' di video indietro e ve lo spiego voi buttate quindi partite con l'avvio con questa USB qua e la prima cosa che fa lui è caricare come se fosse l'F8 dove ovviamente lui dice benissimo formattiamo il PC e installiamo Windows e voi dite no 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 cliccate su quello che c'è sotto che adesso non mi ricordo se configura un punto di prestino precedente una cosa del genere c'è proprio l'unico tasto che avete sotto la formattazione e vi riporta quello che sarebbe il vostro F8 ok quindi con questo tipo di soluzione voi riavete la stessa schermata con l'F8 dove potete andarvi a ripristinare un punto precedente questo perché per sapere tutte le opzioni all'inizio inizio 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 vi ho detto ma se io non volessi fare il punto di ripristino volessi la sicurezza matematica che tutto funzioni bla 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 cosa devo fare potete anche crearvi un'immagine di sistema è ovvio che per un semplice aggiornamento creare un'immagine di sistema è un po' una cosa come dire vabbè nessuno farebbe un'immagine di sistema però si può fare anche quella un backup di tutto quello che voi avete immagine di sistema significa esattamente quello che è cioè clonate il vostro disco con i programmi installati con tutto quello che avete sul vostro C, E, O, D eventualmente abbiate più dischi all'interno di un disco esterno e sempre dall'F8 oppure con chiavetta che si attiva potete andare a selezionarvi quel tipo di immagine l'ho spiegato in altre situazioni fatemi sapere se non trovate il mio video quindi commentate sotto questo video dicendomi non l'ho trovato spiegaci come si fa questa cosa ed eventualmente ve la rifaccio in senso non mi piace fare video ridondanti perché dopo siamo a rifare un po' dello spam dei miei stessi video però vedete voi se volete ve lo rispiego e in questo modo riprendete esattamente la stessa situazione chiudo dicendovi attenzione perché e questa cosa ormai è diventata il mio spauracchio con Windows 11 in un altro video ve l'ho spiegato insomma chi mi segue regolarmente sa questa cosa ma eventualmente lo dico per certezza nel momento in cui io ero passato recentemente da Windows 10 a Windows 11 mi si era sbragato quello che era il bootloader ok il bootloader purtroppo se si spacca quello non c'è immagine di sistema che tenga non c'è file di recupero che tenga se il bootloader si sbraga ve lo dovete ricostruire da zero in modo tale che se anche voi avete la vostra immagine di sistema il vostro sistema operativo che è già pronto è fatto è lì in una sorta di bolla di sfera pronto ad essere applicato avete il vostro BIOS perché ovviamente se non va il BIOS non avviate neanche il computer ma il bootloader si colloca tra questi due tra la partenza del sistema operativo dato dalla scheda madre all'arrivo di Windows se si spacca questa cosa qua voi con l'immagine del sistema punti di ripristino cazzi e mazzi non recuperate un cazzo dovete ricostruirlo in un video abbastanza recente spiego voi cercate bootloader sul mio sul mio canale e lo trovate quindi non sto dire nemmeno a fare lo spam di rifare ancora questa cosa se vi dovesse servire c'è ma lo dico perché magari qualcuno atterra su questo video solo per un discorso di immagine del sistema io vi ho dato il completo pacchetto per ripristinare eventuali problemi benissimo grazie a tutti ci vediamo al prossimo video e come dico sempre se volete commentare dovete per forza ragazzi purtroppo iscrivervi al mio canale così poi avete la possibilità sotto di scrivere tutto quello che volete lo ripeto ve lo metto alla fine così potete già interrompere il video purtroppo questo sistema è dovuto al fatto che se no sotto tutti i miei video ci sarebbe tonnellate di spam quindi per evitare qualsiasi tipo di problema come questo quindi commenti in automatico il sistema se uno non è iscritto non permette di scrivere sotto il mio canale questo lo dico perché se avete dei commenti che io riesco a leggere li leggo tutti anche quelli che voi mi scrivete che auto spariscono nel senso che c'è un'iconcina in cui mi fa le anteprime vedo che qualcuno commenta ma purtroppo io non riesco a rispondere né dire nulla perché il sistema lo autocancella mi dispiace lo dico sempre perché magari è una domanda che può essere utile o sembra che io sia scortese nei confronti di questa persona cosa che non è assolutamente voluta ma è un'impostazione del sistema cosa da cui non potrei sopravvivere perché dovrei passare la vita a cancellare commenti di spam bene grazie a tutti ci vediamo al prossimo video e ciao